La visione dello smart working totale, cioè della trasformazione di tutto il lavoro in smart working, è un progetto, dal mio punto di vista, nichilista, neoliberista, che vuole portare gli uomini ancora di più all'isolamento e quindi all'impotenza, alla non solidarietà, alla non organizzazione sociale. Buongiorno, benvenuti tutti, ben ritrovati, speriamo che almeno per quest'anno possiamo riprendere i nostri incontri fisici tranquillamente, relativamente tranquillamente, salutiamo naturalmente tutti i nostri amici telematici, che sono la stragrande maggioranza, questo è un gruppo di clamorosa, direi, entità, mi pare che siamo 500, 600, abbiamo toccato il punto 600, mai avvenuto finora, quindi siamo un gruppo record, anche perché poi io pensavo, come era normale, che avendo avuto il lockdown l'anno scorso e tutto il lockdown comunque già dall'autunno, quest'anno avremmo avuto un calo di adesioni, perché bene o male, no? E invece abbiamo avuto questa sorpresa di un'affluenza record, sono quasi tutti online, tanto più in questa fase, ma speriamo di poter invece riprendere almeno per chi può la presenza fisica, perché i nostri sono gruppi fisico-telematici costitutivamente, non è che siamo fisico-telematici per caso o per sbaglio, no? Siamo fisico-telematici perché riteniamo che questa dualità, cioè la fisicità e la telematicità costituiscano e costituiranno sempre di più un'antropologia, cioè un modo di essere umani sulla Terra. Noi saremo sempre di più fisico-telematici, cioè abitiamo anche un habitat telematico. Noi questa intuizione l'abbiamo avuto molto presto, abbiamo subito aperto un canale telematico molto attivo, io aprì il canale YouTube per esempio di Darsi Pace nel 2008, cioè un anno dopo che era nato YouTube praticamente in Italia, che inizia nel 2007, nel 2008 nasce il canale YouTube di Darsi Pace e nel 2010, quando ancora era un fenomeno abbastanza limitato, la pagina Facebook, eccetera eccetera. E poi nel 10 o nell'11 avviamo la struttura telematica dei gruppi, quindi le piattaforme, questa grande piattaforma che noi abbiamo per cui ogni gruppo ha un sito suo riservato accompagnato da un'equipe di tutor qualificati, formati, formatori e quindi può vivere questa dualità fisico-telematica, cioè è chiaro che noi abbiamo praticanti in tutto il mondo, abbiamo praticanti in Corea per dire, abbiamo praticanti in Sud America, abbiamo praticanti in tutta Europa, quindi è chiaro che per un praticante asiatico è un po' difficile venire fisicamente, però tanti praticanti italiani di Firenze, di Bologna, di Palermo vengono e sono sempre venuti ogni tanto fisicamente, uno. Due, noi negli anni abbiamo incrementato sempre di più le strutture territoriali, quindi abbiamo responsabili regionali, organizzano lì dove ci sono praticanti, e ormai ce li abbiamo un po' in tutta Italia, dei gruppi fisici sui territori, c'è il cammino fondamentale che è questo, fisico-telematico, il percorso, ma poi gruppi di persone che vogliono intensificare la loro pratica anche con relazioni fisiche più vicine, cioè nei loro territori, possono partecipare a questi gruppi che ormai sono sparsi, ripeto, in tutta Italia, dal Piemonte, alla Lombardia, alla Toscana, all'Umbria, fino alla Calabria, alla Campania, alla Sicilia, alla Sardegna, in tutta Italia. Quindi questa è la fisicità-telematicità, capite? Questo è un problema veramente antropologico, cioè la misura del rapporto tra fisicità e telematicità. Non credo affatto che tutto il lavoro possa diventare, come si dice, smart working. Non credo. Credo che, certamente, anche il mondo del lavoro potrà trovare un equilibrio fisico-telematico, ma deve stare molto attento all'equilibrio. La visione dello smart working totale, cioè della trasformazione di tutto il lavoro in smart working, è un progetto, dal mio punto di vista, nichilista, neoliberista, che vuole portare gli uomini ancora di più all'isolamento e quindi all'impotenza, alla non solidarietà, alla non organizzazione sociale. Perché è molto più difficile organizzare dei lavoratori che sono ognuno isolato a casa sua, è molto più difficile che sentano una solidarietà di lavoro, che si sentano uniti quando sono isolati. Capite? Quindi il nostro laboratorio fisico-telematico contempla anche queste grandi questioni antropologiche che saranno sempre più potenti e che implicano un problema spirituale, cioè una conoscenza dell'umano che ci preservi da derive alla fine disumanizzanti, ci vuole una grande lucidità spirituale, ma anche poi una capacità di tradurre queste visioni in prospettive culturali e anche politiche. perché si tratterà di fare poi delle lotte, perché ci sono degli interessi, nonostante che questo sistema vuole farci credere che non ci sta più il conflitto, non siamo tutti sulla stessa barca sti cavoli. Certo, in un certo senso siamo tutti sulla stessa barca come nelle navi romane, c'erano gli schiavi sotto che remavano incatenati e c'era il pretore o il console che stava là a fase una sigaretta. Anche quelli stavano tutti sulla stessa barca, non c'è alcun dubbio. O anche sul Titanic stavano tutti sulla stessa barca, ma sappiamo bene che chi stava in terza classe e chi stava in prima classe stavano in condizioni un po' diverse. Quindi essere sulla stessa barca non vuol dire che non ci sia il conflitto, anzi, anzi. E quindi il conflitto è una cosa buona. Dice, ma come? Darsi pace? Ebbene, certo, darsi pace non vuol dire negare che esista un conflitto a favore di chi schiavizza o sfrutta e distrugge il mondo. Non è quella la pace, staremmo freschi. Se quella fosse la pace non mi riguarda, non mi interessa. Noi ci diamo pace per essere più lucidi, più forti, per trasformare il mondo. Liberazione interiore, trasformazione del mondo è il motto dei nostri gruppi. E questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, cari ragazzi, sempre, perché proprio questo, questo sistema di mondo vuole farci dimenticare. Tutti e due i poli. Ci vuole fare dimenticare che c'è un processo di liberazione interiore possibile e ci vuole fare dimenticare che c'è un processo di trasformazione di questo mondo possibile. Ci vuole far convincere che non è possibile, invece, né questo né quello. Dovete accettare la vostra condizione, la nostra condizione mortale, terrestre, disperata, accettarla come insuperabile e accettare che l'unica cosa che potete fare è prendere, diciamo, i palliativi e le compensazioni che il sistema vi propone. E quindi consumate, consumate, consumate. Perché consumando vi dimenticherete che siete dei poveracci destinati a morire nell'insensatezza dell'universo. Chiaro? Comunque, cari ragazzi, noi siamo qui per corroborarci, per corroborarci. E io spero che il senso di questo lavoro che noi proponiamo stia penetrando lentamente o meno nei vostri cuori. E vedete che cosa distingue il nostro lavoro, la nostra proposta? Tante cose. Tante cose lo rendono abbastanza singolare. Innanzitutto, lo sapete, l'integrazione dei tre livelli che non è molto diffusa e praticata. Quindi integrare in modo, si spera, efficace un livello culturale, una riflessione culturale che si fa pura, come dicevamo, politica sociale, insieme ad un lavoro interiore di autoconoscimento fatto bene, serio, sulle nostre ferite, sulle nostre strategie difensive. Oggi approfondiremo. È un lavoro spirituale, serio, regolare, che modifichi lo stato mentale. L'integrazione di queste tre cose è indubbiamente un elemento singolare del nostro lavoro. Però io credo che uno degli elementi più caratterizzanti del nostro laboratorio sia che noi accogliamo le persone e ci accogliamo così come siamo. Cioè noi ci basiamo su un realismo quasi estremo. Noi non ci illudiamo. O proviamo, naturalmente. Noi non sorvoliamo. Noi sappiamo che l'entità terrestre umana, cioè io qua adesso e voi là adesso, è qualcosa di molto controverso. È un'entità controversa. I vostri corpi, la vostra psiche, la mia adesso, è un gran casino. Noi questo non ce lo dimentichiamo, capite? Perché se lo sapeste in modo serio non potreste iniziare un qualunque discorso, una riunione spirituale, tra virgolette, o politica, non tenendo conto in modo più realistico di chi hai davanti, di come sta questa persona realmente. Noi umani ci incontriamo tra di noi e organizziamo la nostra vita sociale come dei carri armati. Prima di tutto passiamo come carri armati su noi stessi, capite? Asfaltatrice. Cioè ci mettono un bel manto di cemento, poi ci passano sopra, come si chiama? O schiaccia sassi, così. Poi quando hanno creato questa base, diciamo, di cemento armato, su quella costruiscono il discorso, qualunque sia il discorso. Ma perché? Io so perché. È molto più comodo, molto più facile, specialmente se il tuo intento non è fare del bene alle persone, ma è dominarle. Grazie.